22 novembre 1992, quindi anniversario ieri, primo gol tra i professionisti di Alessandro Del Piero in Serie B, Padova Ternana 5 a 0. È vero, è vero. Parlando di sogni che diventano realtà, ero un ragazzino di 16 anni, 17, e per me giocare a Lappiani, giocavano ai giovanili del Padova, giocare a Lappiani, poter esordire in Serie B con i ragazzi che erano lì, Galderisi, Ottoni, Loni, Simonetta, una squadra fantastica. Per me già entrare era qualcosa di particolare, poi quello stadio era uno stadio particolare, anche Gianluca lo sa bene, e quindi figurati fare il gol. Anche se a 5 giorni non fregarà niente, per me era come avrei fatto il gol in finale di Champions. È una gioia pazzesca, sì.